quinta corsa ad agnano premio severus prova riservata alle femmine di 5 e 6 anni è un doppio chilometro su america winner fast c'è ghetano di nardo prima fila per big band lf big moon lf half moon light baciata dai font aquile rl bahamas a s bella meisan e bonavita pax seconda per american winner fast sta per completare la progressione l'auto start si ritratta bonavita pax parte arretrata anche bahamas a s alvia big moon lf attaccata a largo da half moon light la lieva di tamburrano assume l'iniziativa sulla stessa big moon lf che rientra baciata dai font posizioni che si vanno delineando a largo c'è aquile rl che non ha trovato spazio alla corda e quindi si presenta su half moon light ma tamburrano fa capire di voler agire all'avanguardia primo quarto completato in 29 2 adesso riduce il ritmo la leader aquilea viene aggirata da baciata dai font ed è la cavalla affidata di lorenzo a puntare in avanti 43 e 8 i 600 baciata dai font nuova leader su half moon light e big moon lf mentre aquile rl si adegua a largo e la scia di aquilea troviamo bella may sun terza pariglia per big band lf quarta per bahamas a s la leader completa il primo chilometro in uno 14 e 2 e così all'imbocco della penultima piegata baciata dai font half moon light e big moon lf formano il treno interno a largo aquilea bella may sun e big band alla terza posizione bug moon lf si è spostata a largo in anticipo su big band lf la mossa a palo lontano di bella may sun si viaggia sul piede dell'1 e 15 scarsi bella may sun rimane però in terza ruota non progredisce più di tante allora è il turno di big band lf il miglio in due minuti richiesta baciata dai font aquilea ancora ai suoi fianchi terza ruota per big band quarta ruota per big moon poi alf moon light battute conclusive sta passando big band di dentro va alf moon light a largo big moon big moon va su big band big moon è incisiva big moon su big band lotta serrata big band big moon lf big band lf e per il terzo half moon light media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1 148 1 149 per big moon lf giuseppe immobile la figlia di ideale lui se fancy music lf si è sistemata terza terza al via si è spostata dalla corda a 800 dalla conclusione e poi con ottima progressione è venuta a prendere la meglio nei metri finali su big band lf che era passata all'ingresso in retta mentre per il terzo half moon light per la parte